Ascetti Ok, tutto bene Funziona anche il pad? Prendi L'arma, no, funziona solo Ah no, funziona col pad No, non funziona col pad Allora Ci sei Franco? Prendi Ah questa Come si fa a prendere Si sembra faldo, si diceva che assomiglia a falbo Come faccio a prendere la... Aspetta, vediamo i tasti Ah ecco Cosa è? Scusa Sto facendo da un anno Ah, ha fatto Cosa fa? Ah ok Sembra falso comunque Dove trovare la fedda Come di solito Ma non corre neanche Mmm Mmm Dove? Dove? Eh? Quindi Ma non mi corre? Eh, se è troppo lento Non corre, è lento sto coso Managgia Potremmo fare il mouse e il coso Luminato Non me lo prende Essere questo? Nel mp do prendere? O questo? Non riesco a prendere gli oggetti Mannaggia Eh Dopo Ipsen Forse perché ce l'ho Eh che possono ammazzare il latte Cosa devo fare? Oltre cosa vuol significare Oltre Attende le attrazioni Qualcosa Ma si esce nei bassi o altre? Non ho capito Uh ah ecco Non dato che c'è la porta aperta Ok Un detto G per doppare Questa è sta roba G per doppare Torre le attrazioni Aiuto Mi sono girato Che devo fare? Non capisco Non capisco Cosa mi ha detto La fa Non capisco Se devo buttarlo La speltella Non dare in giro Bu 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 Sì. vabbè noi facciamo l'ultima mi sa che non si gioca di su giusto diamo un po' tomato tu sei pronto no ma si può colere è per aprire il port con è ah no forse con è allora è uscire poi no non mi piace perché non si capisce cosa deve fare ah si stima qua ah mi spiega come è il gioco termomato l'oggettività nemf nemf e questo non so che cos'è ah dove bucciare lo spirit con i fiammiferi lol in the name of the lord so che portare un oggetto un oggetto solo per volta volevo visto in the name of the lord so che non potrebbe perché sono da solo non mi fa giocare non ci sono ancora i server c'è di giocare ancora nessuno con questo gioco in the name of the lord va bene non ci sono Grazie a tutti.